Ben trovati con il TG Liss di Telebari. Non sarebbe in pericolo di vita la 41enne che ieri pomeriggio è stata colpita con alcune martellate da un settantenne a Grumo Appula. Non sono ancora chiari i motivi dell'aggressione avvenuta nel quartiere Sant'Antonio. La donna, soccorsa dai medici del 118, è stata trasportata in ospedale al San Paolo di Bari con ferite alla testa, alle mani e alle braccia. Il settantenne invece è stato fermato dai carabinieri. Non si esclude che l'aggressione sia stata successiva ad un approccio sessuale da parte dell'uomo che al rifiuto della 41enne avrebbe reagito con violenza. Il pensionato potrebbe rispondere di lesioni aggravate. Intanto indagini sono in corso da parte dei militari del nucleo radiomobile della Compagnia di Modugno, coordinati dalla Procura di Bari. Potenziare l'assistenza primaria all'interno del presidio integrato di Terlizi si muove in una logica di stretta collaborazione l'accordo tra ASL Bari e Medici di Medicina Generale siglato nella sede della Direzione Generale per sancire l'avvio di una regolamentazione della durata decennale rivolta a singoli medici convenzionati o riuniti in forma associativa. Presenti alla firma il Direttore Generale Antonio Sanguedolce, il Direttore Amministrativo Luigi Fruscio e i dieci medici che hanno aderito all'accordo. La ASL metterà a loro disposizione spazi adeguati all'interno del Michele Sarkone dotandoli dei confort e dei servizi necessari con il valore aggiunto di poter usufruire dell'assistenza del proprio medico curante e di una serie di prestazioni sanitarie in un unico luogo. E adesso le altre notizie del TG Liss. Alvia i lavori di riqualificazione nella scuola Diomede Fresa di Bari. Il sopralluogo degli assessori alle politiche educative giovanili domani mattina, Paola Romano, e l'assessore ai lavori pubblici Nicola Mele per l'inizio dei lavori di rifacimento del plesso scolastico. La scuola di infanzia assita in Piazzetta Sant'Anselmo a Bari Vecchia verrà trasformato in asilo nido comunale. Anche il Politecnico di Bari e l'Università Aldo Moro il prossimo 16 febbraio si uniranno per aderire alla manifestazione Mi Illumino di meno, promossa da Rai e Radio 2, in occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili. In tutta la Puglia i cinque Atenei spegneranno in contemporanea dalle 19 alle 21 tutte le luci di alcuni loro immobili simbolici. Le frecce tricolori tornano in Puglia a appuntamento a Trani il 12 maggio in occasione delle celebrazioni per l'intitolazione di una targa al maresciallo di prima classe Pietro Lettini, tranese, medaglia d'argento al valore. Non sono previste invece esibizioni e sorvoli della pattuglia acrobatica a Bari per la festa di San Nicola. Bari festeggia San Valentino con karaoke e musica, balli in largo albicocca a Bari Vecchia che ospita la rassegna L'amore Canta. Centinaia le persone in piazza, così come in piazza Umberto c'è il Puro Cioccolato Festival San Valentino Edition con i migliori maestri cioccolatieri italiani ed europei in mostra fino al 18 febbraio. Inoltre fino a domenica prossima prosegue Love Art, l'installazione fra via Argiro e via Sparano che propone la rielaborazione di 28 capolavori d'amore che hanno raccontato il sentimento nella storia dall'antica Grecia ad oggi. Il 16 e il 17 marzo prossimi la Fiera del Levante di Bari ospiterà il Mediterranean Winner Show mostra felina che coinvolgerà espositori e allevatori provenienti da tutta Europa. L'obiettivo è promuovere la cultura del gatto di razza e non solo in Puglia e nel Mezzogiorno. Un appuntamento imperdibile per gli amanti dei gatti. La Guardia di Finanza ha scoperto che 25 persone in provincia di Foggia percepivano senza averne diritto il reddito di cittadinanza per oltre 270 mila euro. I controlli hanno interessato i comuni di Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Rodi Garganico e Sannicandro Garganico. Diverse le irregolarità riscontrate durante le indagini, dalla mancanza del requisito della residenza effettiva nel territorio nazionale ha false dichiarazioni inerenti la composizione del nucleo familiare. Le 25 persone sono state denunciate alla Procura e segnalate alla Direzione Provinciale IMSS per il recupero delle somme già erogate. La polizia ha notificato a Michele Misseri un avviso orale emesso dal questore di Taranto. Si tratta di un monito a comportarsi bene rivolto al 69enne che domenica scorsa ha lasciato il carcere di Lecce dopo aver scontato sette anni di reclusione per la soppressione del corpo della nipote, 15enne Sara Scazzi. Misseri è uscito con circa un anno di anticipo per buona condotta ed effetto della norma svuotacarceri. Si è rimesso dalla carica di presidente del Museo di Ostuni, Luca Dellatti, al centro di una bufera politica dopo la pubblicazione sul suo profilo Instagram di una storia con una foto della premier Giorgia Meloni a testa in giù. Anche il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, ieri aveva annunciato serie valutazioni. E con il TGLIS è tutto, grazie per averci seguito. Buon proseguimento. Grazie a tutti.